Benvenuti al nostro TG Sport cari amici di Telemolise in apertura del nostro telegiornale sportivo vogliamo fare davvero gli auguri più affettuosi più sinceri ad Arnaldo Di Lallo che proprio oggi festeggia il suo compleanno Arnaldo è stato sempre un grande tifoso del Campobasso e segue veramente con tantissima attenzione anche la nostra programmazione sportiva tra l'altro è uno dei cugini a cui voglio francamente più bene e quindi spesso mi rimprovera anche se qualcosa non va nel verso giusto naturalmente secondo lui e quindi cerca in qualche maniera di essermi da supporto di supporto dunque Arnaldo è veramente una persona a moto, una persona sempre sorridente, gentile è stato anche un ottimo cacciatore insomma quindi un grande sportivo e quindi in questo giorno del suo compleanno voglio davvero fargli gli auguri più sinceri come dicevo già in apertura ad Arnaldo e anche alla moglie Sarina quindi gli auguri di lunga vita da parte mia personalissima e da parte di tutta la redazione sportiva di Telemolise per il calcio di Serie D nel terzo turno del Girone F le tre molisane e l'FC Matese saranno impegnate tutte in trasferta Notizie dall'infermeria del Campobasso Ricamato ha svolto ieri allenamento differenziato ma lo staff si dice ottimista per un recupero in vista dell'Atletico Ascoli fisioterapia e allenamenti in gruppo per il fuoricuota Pontillo lavoro a parte per Vincenzo Corvino che proprio dopo il suo secondo gol a Piedimonte Matese si è temporaneamente infortunato lo stop dell'attaccante riferiscono fonti rosso-blu e solo in via precauzionale il Campobasso Targato Mosconi proverà a battere anche l'Ascoli in casa sua all'impianto sportivo del Don Mauro Bartolini della città marchigiana i ragazzi di Pirozzi sono usciti sconfitti da Termoli ma hanno destato una discreta impressione in fatto di palle gol costruite lampante il dato offensivo carente dell'Ascoli i neopromossi ancora non segnano un gol da parte rosso-blu i numeri quadrano decisamente meglio in campionato sei gol fatti e uno subito se si amplia l'angolo visuale con la Coppa Italia ecco che i gol all'attivo diventano undici soddisfatta la proprietà americana che segue con scrupolo e a distanza i lavori sia a livello burocratico che sportivo Mattrizzetta si dice entusiasta dell'inizio di stagione e promette di essere presente a Campobasso l'Aquila del primo ottobre a Selvapiana il giudice sportivo non ha omologato il risultato di Fossombrone Fano finito 2-0 per gli ospiti nelle cui fila avrebbe giocato un calciatore squalificato il giudice specifica nel comunicato di riservarsi delle decisioni in merito l'esito del campo potrebbe essere capovolto in favore del Fossombrone va registrato l'inizio di campionato particolarmente positivo delle molisane di Serie D con il Termoli vittorioso in casa contro l'Atletico Ascoli ed il vasto Girardi che ha capitalizzato al massimo l'unico gol fatto quello di Iacovetta al 92esimo che per ora pesa ben 4 punti in classifica rimane al palo l'FC Matese che deve registrare 1-0 in graduatoria nella casella dei gol fatti il capo contro il campo basso ha evidenziato una squadra capace di reggere l'urto per un tempo poi in difficoltà nei secondi 45 minuti si è messo subito in moto il direttore sportivo Giorgio Palermo che dovrà attingere a mercato chiuso nel reparto degli svincolati sembra sia stato contattato l'ex attaccante del Termoli Eluazni che dovrà fornire una risposta ad ore alla società casertana in un campionato così livellato ma forse è il caso di dire sempre è auspicabile una classe arbitrale attenta ad evitare errori e ad incidere sul risultato finale delle gare in questo senso il gol di braccio segnato da Forgione del Chieti nella gara contro l'Aquila già ha rappresentato un primo passo falso del fischietto di turno la tendenza è subito da invertire il campo basso si è imposto anche a piedi Montematese venendo fuori alla distanza al termine del match abbiamo avvicinato Nonni che è stato uno dei protagonisti della contesa Leonardo Nonni vittoria convincente dopo un primo tempo equilibrato a piedi Montematese a che partita è stata? è stata una grande vittoria perché vincere qua è veramente difficile sono tre anni che vengo qua di fila e qui è sempre una battaglia incredibile loro squadra ostica tifo intenso si da una parte e dall'altra campo stretto tanto agonismo e infatti sono veramente contento perché qui sarà veramente difficile per tutti vincere ci hanno parlato anche di un sintetico non in buone condizioni proprio a livello di manto ma quello non ci interessa sinceramente è proprio qui è l'ambiente che è ostico la squadra è sempre battagliera è sempre una battaglia qui quindi vincere qua vale molto di più la vittoria prende valore ma ci sono dei numeri convincenti di questo campo basso sei gol in due partite e solo uno subito insomma sono numeri eloquenti sì noi dobbiamo continuare così sulla nostra strada lavorare dal martedì al sabato per arrivare la domenica nel modo migliore possibile noi giochiamo per attaccare per far gol e poi ovviamente dobbiamo essere bravi anche a non prenderlo a un certo punto è sembrato che Corvino decidesse quando segnare non so se hai avuto questa impressione ovviamente lo dico con tutto il rispetto per la FC Matese ma questa è stata l'impressione dalla tribuna Corvino è un giocatore molto importante per noi è fortissimo sull'uno contro uno quindi se noi lo mettiamo in condizioni di esprimere le sue potenzialità farà la differenza ovunque il campionato si conferma duro difficile sul filo del rasoio lo dicono i risultati ha vinto la Samb per esempio il Chieti ha battuto l'Aquila sì è un campionato secondo me stupendo c'è un equilibrio incredibile squadre tutte attrezzate dalla prima all'ultima quindi sarà veramente domenica per domenica una finale questo campo basso è in crescita? sì noi lavoriamo giorno per giorno ogni giorno cerchiamo di mettere quel mattoncino in più basket torna in campo nel weekend la Molisana Magnoli e le ragazze allenate da Mimo Sabatelli saranno impegnate ad Acropoli in un quadrangolare che vedrà in campo anche Ragusa Oxygen Roma e Battipaglia il vasto Girardi messi in cassaforte i primi tre punti in casa lavora per la gara sul campo del Fossombrone mister il vasto Girardi è uscito dalla sfida con il Sora con i tre punti in tasca al di là del successo si poteva forse fare qualcosa in più non siamo stati cinici anche il primo tempo dobbiamo migliorare ci metteremo lì con i ragazzi a fare combinazioni offensive c'è da migliorare c'è da fare le cose con più semplicità è normale loro facendo anche l'esercitazione e l'allenamento in nove contro dieci la squadra avversaria cosa fa? si stringe e noi dobbiamo prendere ampiezza magari ci siamo riusciti non abbiamo avuto la zampata vincente però le partite durano cento minuti l'abbiamo segnata il 93esimo non è che non abbiamo fatto gol quindi cosa dire avete fatto tutti valutazioni giuste secondo me non siamo stati cattivi non solo con gli attaccanti perché chiedevo anche ai miei attaccanti di venire un po' fuori per allargare il gioco ma anche con gli inserimenti dei centrocampisti tutte queste cose qua mister il Vasso Girardi non è riuscito ad alzare i ritmi in alcuni frangenti del match almeno questo è quello che noi abbiamo visto dalla tribuna stampa del Ditella non è che non è riuscito ad alzare i ritmi è diversa non siamo riusciti a fare gol perché dopo un 75% di possesso palla che la palla i rigori ne sbagliano Baggio Baresi io sono dell'epoca vecchia non dell'epoca nuova quindi secondo me giustamente fate un'analisi da giornalisti io l'accetto vado a casa con questa analisi che avete fatto la rispetto ma non la condivido dovevamo far più gol punto l'affermazione di misura sul Porto d'Ascoli ha contribuito a creare maggiore entusiasmo intorno al Termoli ne abbiamo parlato con il Presidente Presidente del Termoli Calcio arrivano questi tre punti sfatato il tabù quello dello scorso anno dove si è iniziato male il campionato in casa questa volta si parte bene con i tre punti tre punti importanti che servono anche sul piano morale assolutamente sì infatti contrariamente dell'anno scorso dove eravamo magari più belli nel fraseggio nel palleggio ho visto una squadra che mi è piaciuta poco abbiamo sbagliato tanto però abbiamo vinto e se questo è il risultato allora speriamo di sbagliare sempre di essere brutti però alla fine vinciamo e la buttiamo dentro tra l'altro mi dispiace per il secondo gollo che è stato annullato non credo anzi in più di occasione credo che abbiamo segnato e non era assolutamente fuori gioco però l'arbitra l'ha vista così però buona la prima da rivedere sicuramente quelle due reti non convalidate Presidente avete lavorato tanto in estate i frutti si vedono subito una squadra allestita che farà sicuramente del proprio meglio e saprà dire la sua in questo campionato noi questo ce l'auguriamo sono convinto e lo dico sempre che il lavoro alla fine ripaga sempre credo che abbiamo fatto un buon lavoro sotto tutti i punti di vista sia per quanto riguarda gli over che gli under abbiamo quadrato il reparto difensivo centrocampo e attacco per cui penso che quest'anno sarà un campionato differente però ripeto mi aspettavo sicuramente una prova maggiore però alla fine abbiamo vinto e il risultato conta quello che conta sempre una prova importante potrebbe essere la gara di domenica a Tivoli dove potrebbe dire anche un po' la forza di questa squadra qual è? ma io non penso che sia soltanto Tivoli io penso che in ogni su ogni campo in casa e fuori casa il Termoli deve dimostrare il suo valore e la sua forza perché quest'anno crediamo che questo sia il campionato più competitivo che ci sia mai stato mi sembra addirittura di rivivere la vecchia Serie C2 per cui dovremo andare con il coltello tra i denti su tutti i campi di calcio calcio a 5 serata di amichevoli per il Cus Molise e lo Sporting Campobasso i ragazzi di San Ginario saranno impegnati nel triangolare di Genzano con Eco City e Roma mentre quelli di Pietrunti sfideranno in trasferta il Manfredonia Atletica è iniziato il countdown per l'edizione numero 19 della Corrisernia gara organizzata dalla Nuova Atletica in collaborazione con il Comune la società è al lavoro per mettere su un evento di grande qualità Agostino Caputo presidente della NAI dunque fervono i preparativi per la prossima edizione della Corrisernia mancano poco meno di due settimane sì in effetti hai detto bene ma siamo veramente adesso nella fase finale conclusiva della preparazione dell'evento come ogni anno la Corrisernia sappiamo che è a 360 gradi quindi gli impegni sono tanti a cominciare dai bambini nelle scuole agli amatori la corsa agonistica la corsa non competitiva e i due eventi per atleti professionisti quindi siamo all'opera abbiamo cominciato a consegnare liberatori in tutte le scuole siamo già circa 2.000 2.500 consegnate soltanto poi vedremo le adesioni speriamo che siano tante come l'anno scorso sì per quel che riguarda l'iscrizione alla corsa non competitiva c'è un contributo sociale attraverso questo share di program sì in effetti non è una novità sono qualche anno che facciamo questa iniziativa con delle associazioni che presentano dei progetti progetti a sfondo sociale quest'anno si è arricchito con la LILT la Lega Italiani lotta ai tumori la sezione provinciale di Sernia che ha presentato un progetto importante poi c'è il Lions Club che ha confermato la Lai di Nino Santoro e Urte la Vita di Ugo Martino sono quattro progetti interessantissimi e chiediamo a tutti i cittadini di partecipare per dare la loro adesione dando un piccolo contributo a questi ripeto non è una gara la loro deve essere solo una partecipazione possono passeggiare possono presenziare soltanto avendo in cambio dell'iscrizione di 10 euro la maglietta tecnica che viene data pure agli atleti competitivi è un bel ricco pacco gara serve giusto per sensibilizzare le persone su questi temi importantissimi quindi lo chiediamo in particolar modo alle persone che non fanno attività fisica regolarmente che vogliono solo passeggiare dare una mano a queste associazioni per realizzare questi progetti quindi ci si attende la solita risposta massiccia dell'intera città ma anche soprattutto le attività e le scuole sì in effetti il lavoro nelle scuole che stiamo facendo come ogni anno è un lavoro grossissimo noi abbiamo interessato tutte le scuole di ogni ordine grado sia di Sernia che della provincia di Sernia perché ricordo che il monte premi in denaro che mettiamo a disposizione vale sia per le scuole di Sernia che per le scuole della provincia di Sernia grazie alla dirigente Caccioppoli che quest'anno è dirigente sia della Giovanni Bosco che della Giovanni XXIII alla dirigente Dinezza alla dirigente Litis Mattei e del liceo artistico arte Manupel quindi tutti loro ci stanno dando un aiuto per cercare di sensibilizzare piccolissimi anche dalla primaria fino ai ragazzi liceali insomma tutti gli istituti sempre per l'atletica nel weekend si è svolto sul campo comunale Nicola Palladino il Memorial Musacchio organizzato dal comitato regionale della FIDAL la vittoria è andata alla rappresentativa dell'Abruzzo che ha preceduto Puglia e Umbria due le migliori prestazioni italiane il pugliese Gabriele Berardi nel salto con l'asta cadetti ha fatto registrare la misura di 4,30 mentre nella 5 km di marcia l'abruzzese Gabriele Marchioro ha affermato i cronometri in un tempo davvero ottimo per il Molise podi ottenuti da Samuel Boriati secondo negli 80 metri Alessandro Coletta argento nel salto triplo e per le cadette bronzo centrato da che si attesta nei 2000 metri per il volle ieri nel riqualificato impianto di Villa De Capua la nuova pallavolo Campobasso ha festeggiato i 40 anni di attività Lucia De Soccio voglio partire subito da un dato i 40 anni di attività della nuova pallavolo Campobasso un numero importante che però non è un traguardo ma un punto di forza per voi per dare sempre di più e guarda veramente sono emozionata perché 40 anni di attività più gli altri fatti con la S pallavolo veramente una vita data col cuore ad una disciplina che mi piace e soprattutto mi piace vedere tutta questa festa che sicuramente è il coronamento di tanto lavoro di tanta passione e soprattutto di tanto sacrificio una passione che avete intrapreso insieme tu tuo marito e avete coinvolto anche le vostre figlie ed è partito tutto diciamo dai giovani praticamente sì perché io da facevo altre discipline sportive sono sempre stata abbastanza peperina quindi eh sì abbiamo coinvolto la famiglia ma più che altri l'abbiamo stoccolizzati perché o così o così da una parte se non c'era il coinvolgimento di tante persone tutto quello che abbiamo fatto non l'avremmo potuto fare perché con le sole nostre forze è molto difficile portare avanti un discorso per tanti anni soprattutto con questi ritmi con questi risultati e con questa attenzione perché noi siamo molto attenti ai ragazzi noi ci siamo sempre comportati da professionisti non essendo dei professionisti io ho una panda fuori probabilmente avrei potuto comprare una Ferrari per quando i ragazzi mi sono passati per le mani però abbiamo sempre pensato al loro futuro abbiamo rinvestito e questa cosa ci fa stare bene perché la gente ci segue 40 anni che avete voluto celebrare anche in occasione della presentazione della squadra di Serie C femminile unitamente alla squadra la Spike la maschile di Serie B e sì ormai questo connubio va avanti da tre anni noi siamo ben felici perché noi avevamo il settore maschile e quello femminile chiaramente abbiamo diviso le due cose perché lavorare con entrambi i settori è abbastanza complicato però le cose vanno bene noi siamo sempre stati molto disponibili portiamo avanti il nome nostro e il nome della Spike per cui penso il futuro sia continuare insieme con intelligenza umiltà e tanta modestia perché i passi si fanno lenti e con intelligenza il passo più lungo della gamba noi nuova pallavolo non siamo abituati a farlo ecco l'attività continua per la nuova pallavolo Campobasso inizierà a breve anche il campionato e come società vi siete tolti anche qualche soddisfazione con qualche atleta allora due nostre atlete una è a Milano nel club Italia Nord quindi fa parte del giro delle migliori 13 atlete d'Italia e secondo me farà carriera l'altra fa parte del club Italia Sud di Chiara Martinelli certo ora iniziamo un campionato un po' in affanno perché chiaramente ogni anno c'è sempre diciamo il rinnovamento non lo svecchiamento però noi siamo abituati creeremo un'altra Giovanna altre ragazzine ci sono certo ci vuole tanta pazienza non è che così si forma un atleta con umiltà serietà e lavoro in palestra tanto lavoro in palestra per il calcio d'eccellenza il Campomarino al Santa Cristina è incassato il secondo KO consecutivo per mano della Turris Basso Donofra le nature del Campomarino quanta amarezza c'è dopo questa sconfitta di misure dopo che avete sicuramente comandato il gioco e avete anche rischiato di andare in vantaggio poi siete stati puniti proprio sul ribaltamento di fronte sì è stata una partita un po' strana perché comunque il pallino del gioco l'abbiamo avuto quasi sempre noi per tutti i 90 minuti siamo stati puniti neanche su una ripartenza ma su un episodio che è anche difficile da giudicare perché è proprio un errore individuale e questo fa male perché comunque è la stessa cosa che è successa domenica scorsa perché comunque abbiamo perso un'altra partita su errori individuali e quindi una cosa su cui dobbiamo assolutamente lavorare è una squadra quella del Campomarino sicuramente giovane con tanti elementi di prospettive che hanno ampi margini di miglioramento ma quello che è mancato forse è stato un po' di verticalità nel gioco sì assolutamente loro erano molto schiacciati dietro quindi abbiamo cercato di farli aprire sugli esterni però poi c'è mancato quel guizzo che poteva farci fare comunque superiore da numeriche magari andare a un cross andare a una conclusione andare a un taglio e non ci siamo riusciti onore a loro che si sono difesi alla grande quindi merito agli avversari perché sono riusciti a fermare i nostri attacchi presto naturalmente per parlare di classifica però zero punti in due partite forse un po' pesano ma questa è una squadra che ha ampi margini di miglioramento e va rimotivata forse ovvio che gli zero punti fanno assolutamente male perché stiamo lavorando da un mese stiamo lavorando anche bene ripeto dispiace perché stiamo perdendo su episodi singoli e neanche di struttura di gioco quindi è quello che fa male però io sono contento di quello che stanno facendo i ragazzi non sono contento dei frutti che stiamo raccogliendo ma sono sicuro che li raccoglieremo oggi pomeriggio si completa la prima fase della Coppa Italia di Lettanti con 15 delle 16 gare in programma la sfida tra Altilia, Samnium e Morcone infatti è stata posticipata al 27 settembre tutte le altre partite inizieranno tra poco esattamente a partire dalle ore 15 e 30 equitazione da dopodomani a domenica presso il centro Ippoform di Campobasso ci sarà il primo Memorial Paolo Adamo concorso Ippico Nazionale venerdì e sabato si svolgeranno le gare dalla categoria L20 alla C130 domenica invece è quella dalla categoria L20 alla C135 anche il Custo Molise sarà impegnato nel trofeo Coni che si terrà da domani a domenica lungo la costa ionica della Basilicata una manifestazione che ospiterà più di 4.000 atleti in tutte le discipline per il pattinaggio in rappresentanza del centro sportivo universitario partiranno Francesca Di Cristofaro Francesca Ramaglia Lorenzo Poleggio e Gabriele Parisi in compagnia del maestro Roberto Simiene per il calcio di promozione il Riccia ha battuto al Poce il Rocca Ravindola brindando al primo successo stagionale Manuel Vitone portiere della Locomotive Riccia vittoria importante in rimonta per voi con una squadra molto forte come il Rocca Ravindola inizio un po' contratto poi alla fine siete usciti bene sì era una partita difficile i primi minuti non siamo stati proprio puliti e non l'abbiamo fatto benissimo poi fortunatamente abbiamo ripreso subito la gara in mano e siamo riusciti a vincere fino alla fine peccato un po' per il nervosismo del primo tempo che non ci voleva sì diciamo c'era un po' più di rabbia perché comunque domenica scorsa non avevamo vinto avevamo un po' quella pressione nella prima in casa dopo tanto tempo in promozione quindi è un po' diciamo accettabile ovviamente non fa bene allo sport però alla fine è finita tutto in nulla di fatto dopo il periodo tecnico tre attri di Baranello avete sistemato tante cose specialmente in difesa e si sono visti miglioramente sì siamo una buona squadra dobbiamo diciamo mettere un po' di minutaggio nelle gambe tutti insieme ci sono degli elementi nuovi però alla fine quest'oggi è andata molto bene sei molto esperto della categoria sei stato in molte piazze questo è un camionato strano c'è tanto equilibrio lo possiamo dire sì c'è equilibrio e domenica dopo domenica puoi vincere o perdere con chiunque noi siamo una buona squadra fino alla lunga poi vedremo come va l'ultima cosa prossimo step si va contro una squadra che in casa comunque cerca di fare il suo campionato contro il Morcone partita difficile però vuoi cercare di vincere sì è ovvio le partite sono tutte difficili dobbiamo diciamo improntarle con l'approccio giusto e vincere ogni domenica appuntamento in moto domenica prossima Lady Biker Molise & Friends organizza la quinta edizione del moto incontro paese che vai Molise che trovi la partenza è prevista alle 11 dal chilometro 37 della Bifernina la carovana proseguirà alla volta di Civita Campomarano dove i partecipanti potranno visitare il castello e passeggiare tra i piccoli del paese alla scoperta dei murales l'evento rientra nel progetto sport e turismo della regione Molise è tutto per questa edizione del nostro TG Sport buon pomeriggio come on